Un momento speciale da ricordare per gli schermidori della Podgym, ma anche per il presidente dell'US Avellino, Angelo Antonio D'Agostino. Il maestro Carmelo Alvino ha infatti organizzato un videoallenamento sotto gli occhi della pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali, a cui ha assistito anche il numero uno del club bianco-virde. L'appuntamento a distanza ha avuto inizio con l'esecuzione dell'inno nazionale, suonato al pianoforte dal giovane fiorettista Vincenzo Pagliarulo. Oltre alle dimostrazioni pratiche e alla presentazione agli ospiti d'eccezione dell'attività della solida realtà rappresentata sul territorio dalla Podgym, L'occasione è stata ovviamente propizia anche per rivolgere una serie di domande all'Avezzali, che ha partecipato con grande disponibilità, rispondendo a tutti con ampi sorrisi. E allo stesso D'Agostino, il cui pensiero è stato pienamente sposato dall'ex Stella Azzurra, che, prendendo spunto proprio dalle sue parole, ha lanciato un messaggio di ottimismo nel pieno dell'emergenza coronavirus. Sono sicura che alla fine, quando passerà questo momento, come dice Angelo D'Agostino, non sarà niente più come prima, però sicuramente apprezzeremo molto di più il fatto di stare insieme e di condividere qualcosa insieme. Grazie a tutti.